Sì, siamo arrivati nel mio primo gameplay e andremo a giocare a Stamble guys Quindi, prima di tutto andiamo a farci un giro gratis Vediamo che ci esce, dai raga speriamo la speciale Oddio raga, no, raga, ma no raga quanto ho rischiato Vabbè, comunque Vediamo la notizia Ah, ok Andiamo a giocare Intanto, vi dico che questo è il mio primo video Ciao, ho già pubblicato degli shorts Però questo è il mio primo video classico Quindi adesso andiamo a giocare a Stamble guys Licey eggs Questa mappa sono un pro Praticamente in questa mappa sono un pro Oddio, oddio No, raga, sono caduto malissimo Aspettate, eh Adesso andiamo a giocare Oddio, raga, ma che cosa Ok, questo primo round è andato Quindi aspettiamo che i bot si qualificano Così, così Ok, raga, passiamo al prossimo round Allora, non sono molto forte perché sono abituato a giocare da computer Che però non mi fa avviare la registrazione video Quindi, ehm, sono più bravo da computer Perché ci gioco sempre ogni giorno da computer Quindi sono un po' scarso perché gioco da telefono Ma questi sono dettagli Ma questi sono dettagli Oddio Oddio No, no, e no, e dai Va bene, raga Vabbè, intanto parte la pubblicità Eeeh, va bene Anche se ho perso Questo video si conclude qua E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao